Al Teatro Greco-Romano di Portigliola, in provincia di Reggio Calabria, è andata in scena L'Uomo è Forte, spettacolo liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Corrado Alvaro. Con questa rappresentazione si conclude di Teca Sud. Il circuito è stato gestito e organizzato dalla Compagnia Officine Ioniche delle Arti di Reggio Calabria, diretto da Maria Milasi. Il circuito teatrale di Teca Sud, distribuzione Teatro Sud Calabria, nella città metropolitana di Reggio Calabria, distribuito ben 42 repliche prodotte da 14 compagnie calabresi differenti e ha toccato 20 location differenti, per cui questo ha incentivato sicuramente la mobilità degli artisti, la conoscenza di nuovi repertori del teatro contemporaneo, degli artisti calabresi. L'Uomo è Forte nasce dal desiderio della Compagnia Officine Ioniche e Arti di continuare a veicolare l'opera del grande scrittore calabrese Corrado Alvaro, abbracciando la sfida creativa di trasporre e adattare il romanzo per il teatro. L'Uomo è Forte appunto nasce dall'omonimo romanzo di Corrado Alvaro, scritto del 38 circa, che in qualche modo, come dire, c'è anche una sorta di relazione con 1984 di Orwell, perché i personaggi sono simili, anche se poi i romanzi prendono diverse strade. Una volta letto il romanzo, l'avevo già letto un tempo prima, mi sembrava perfetto per rilevarne appunto un testo teatrale. La varietà dei linguaggi teatrali nelle produzioni ospitate ha facilitato anche un approccio con vari tipi di pubblico. La direzione artistica del progetto è di Dante De Rose e Marco Silani. Siamo arrivati al 128esimo spettacolo, di cui ho avuto l'onore di dirigere questo circuito teatrale calabrese insieme a Dante De Rose. Dopo, insomma, più di un anno siamo arrivati finalmente a questa degna conclusione. Il bilancio è stato sicuramente favorevole.